Noi abbiamo un gruppo esoterico, ci sono massoni, ammiratori di Hitler. Gli do i contanti, dico fai l'evento, devi invitare la Val Cepina, fidanza. Poi si è in grado già lì, per venire adesso, viene più comodo fare Black or Black, poi si può prendere altre spese. La scena è secca sulla schiena. Oh esatto, bravo, bravo. La vecchia fascista che è nostra camerata. Abbiamo una serie di lavatrici. Queste persone fanno loro il versamento tracciato. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. La decisione di questa settimana di cercare la fronte dell'EU con la Serbia è la più forsevole per un paese europeo a ridurre la flotta di rifugiati. Durante i clasi, quando i migrati cercano di ridurre le barriere... Il Senato accordo. Un'olio dei polisci9i è arrivi alla扫ia di tutti i bambini. Un'olio dei bambini di il nuovo senso di dei polisci9i è scelto. Il ritorno è iniziato a fare due collezioni questioni di Floyd e due persone che avevano letto. Un uomo staggianto a Chicago Avenue capirà parte della scena fuori dietro a scuola. Un uomo si guarda un uomo e tre dei collezioni restrano Floyd, che si guarda face down sull'uomo in handcuffs. Russian authorities are investigating allegations of torture and rape in the prison system, after leaked videos appear to show inmates being abused. More than a thousand videos were leaked to the human rights group Gulagu.net, which claims the footage proves hundreds of people have been tortured. The films are part of a large trove of files provided by an anonymous Belarusian whistleblower who served time in the Saratov facility, Gulagu.net said. If the authenticity of this material is confirmed, it would be grounds for a serious investigation, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Tuesday. After controlling the The Grazie a tutti.